Dopo avervi detto come va il Bosch Performance Line SX è arrivato il momento di dirvi quanto consuma, qual è l'autonomia e di quali prestazioni in termini di appunto autonomia è capace. Ebbene per farlo ho affrontato diverse situazioni, diverse uscite. Che cosa caratterizza questo motore? Beh innanzitutto è un motore estremamente prestazionale e che può essere diciamo gestito controllato con la cadenza di pedalata. All'aumentare della cadenza di pedalata aumenta anche la potenza che lui è in grado di esprimere fino ad un picco di 600 watt e quando mi trovo a pedalare a circa 90 95 rpm in salita mi accorgo che lui tira che è una bellezza praticamente con una veemenza che è paragonabile a quella di un motore elettrico full power salvo che non appena si smette di pedalare chiaramente bisogna poi riprendere in un certo abbrivio quindi in quei casi lì ecco lì si sente la vera differenza. Se mi trovo a fare dei tratti di salita costanti ripidi ma comunque piuttosto abbattuti tali da permettermi di pedalare ad alta cadenza lui li riesce ad esprimersi al meglio. Queste cose chiaramente valgono per un biker come me che sì sarà anche allenato ma comunque pesa 87 kg quindi lui funziona davvero molto bene se si presta attenzione alla cadenza di pedalata però a questo punto vale la pena fare una valutazione proprio più numerica sul consumo di batteria. Andiamo un attimo a guardare adesso la la prima vera uscita che ho fatto quello che ha quella che ha portato la batteria quasi ad esaurirsi è stata di 48,17 km 1134 metri di dislivello affrontati per un 35 per cento in tour plus con un eco impostato a più 5 tramite l'app il bike flow di bosch e un tour plus impostato a meno 4 percorso era asfalto sterrati a sentieri con pendenze da mountain bike quindi diciamo un giro che avrei fatto anche con una con la con la mia mountain bike con questa uscita qui la batteria è rimasta ad un 11 per cento 1134 metri dislivello perché ho impostato i due livelli eco e tour plus in questa maniera sostanzialmente ho notato che nelle impostazioni di default eco e tour plus hanno c'è uno scalino significativo quando passo da eco a tour plus e viceversa perciò per fare in modo di utilizzare più facilmente eco l'ho potenziato parecchio di addirittura più 5 quindi al massimo e tour plus invece l'ho diminuito a meno 4 perché fondamentalmente spesso mi accorgevo che spingeva più del necessario con un meno 4 ho trovato un compromesso interessante guardiamo poi un'altra uscita molto più molto più easy 19,58 km 361 metri dislivello 61 per cento di carica residua con qui l'ho fatta per un 15 per cento in eco e l'85 per cento in tour plus però in questo caso eco era più 4 e tour plus a meno 2 quindi diciamo ho cambiato un po i settaggi del di questa di queste impostazioni torniamo invece alla primissima uscita quella che vi ho raccontato nel primo video 18,23 km 584 metri dislivello 38 per cento di batteria residua affrontati con l'ottanta per cento in tour plus 15 per cento in imtb 5 per cento in sprint impostazioni di casa quindi non avevo agito sul sull'app ma in quel caso avevo affrontato sterrati e single track con pendenze anche dai mountain bike quindi molto severe perciò diciamo ecco questi sono un po i risultati che ho ottenuto durante questo durante questo test quindi non è un motore particolarmente parco perché per darti questo tipo di supporto soprattutto quando la pendenza scusate quando la cadenza aumenta beh in quel caso lì la batteria viene come dire decimata in maniera abbastanza abbastanza vistosa soprattutto ecco appunto se si considera il peso di un biker di 87 kg a chi consiglio questa questo motore bosch sx beh lui nasce sicuramente per chi è già ciclista perché per farlo funzionare a meglio deve stare fra gli 80 75 85 90 rpm lì sta nella condizione ideale di funzionamento ed è anche chiaro che bisogna avere un tipo di percorsi che ti permettano di utilizzare quel tipo di cadenze perché devono essere percorsi che sono che siano per lo più diciamo abbastanza scorrevoli e regolari ripidi anche se vuoi ma comunque che non abbiano troppi tratti tecnici nel super tecnico comunque se la cava abbastanza bene però attenzione che in quei casi lì quando ci sono dei rallentamenti forti tipo degli scalini è lì che il consumo di batteria aumenta perché lì che si va a chiamare in ballo tutta la coppia di cui questo motore ha coppia di 55 newton metri e la batteria la compact tube di bosch da 400 watt ora possono essere stesi ampliati con un range extender da 250 watt ora che si installa al posto della al posto della borraccia in quel caso si arriva a 650 watt ora quindi detto che è un motore che ha pensato soprattutto per chi è già un buon pedalatore le prestazioni di cui è capace a mio avviso oggi lo collocano sicuramente fra i motori di riferimento nella categoria e mountain bike light al pari di fazua di tq del sistema turbo sl di specialized e lui è arrivato per ultimo ma già si trova piuttosto avvantaggiato l'app bosch flow è sicuramente fatta piuttosto bene molto rapida nella connessione questo va detto e ha quella di quei due tre parametri che possono essere regolati che tutto sommato sono quelli che generalmente un ciclista ha bisogno di diciamo di modificare non ho avvertito la necessità di aggiungere altri voci altri parametri perché nel complesso soprattutto truplasse di mtb sono davvero un riferimento assoluto anche con una potenza più bassa di 30 watt ora scusate di 30 watt rispetto al fratello più grande cx cosa convince meno beh diciamo che in un quadro così idilliaco la cosa che probabilmente convince meno e l'ho già detto nell'altro video è il comando remoto per gestire l'assistenza elettrica del motore perché finisce comunque per interferire con il comando remoto invece del reggisella telescobico quindi questa cosa qui va tenuta in considerazione soprattutto se si pensa che bosch è stata capace di creare il mini remote che è quel comando remoto minimale pensate anche senza fili fantastico adesso mi ritrovo con quello lì che è un po più ingombrante questo sicuramente quindi per concludere a mio avviso questo motore qui è stato forse un po' penalizzato da questo allestimento con lei la m1 non perché è la m1 che non vada bene ma è semplicemente perché lei è molto capace con 160 170 mm di escursione e quindi componenti fra cui le gomme che spiccano soprattutto per il grip e la robustezza beh 21,3 kg sono davvero tanti per cui mi sono accorto che molto spesso per riuscire ad utilizzare la modalità eco ho dovuto potenziarla forse anche un po' troppo perché altrimenti era come non avere assistenza elettrica perciò ecco questa è una cosa da considerare questo binomio qui bici molto capaci di escursione quindi componenti adeguati a queste capacità portano il peso molto in alto e perciò l'ideale può essere che o siete dei biker leggeri e per leggeri intendo sotto i 60 ma anche sotto i 65 e quindi comunque anche allenati allora in quel caso lì questa questa bicicletta qui questo binomio funziona davvero molto bene altrimenti beh siamo un po' al limite io ve lo dico sinceramente avrei preferito avere modo di testare il nuovo Bosch SX su una e-mountain bike meno capace meno con meno escursione e quindi anche più leggera e con un peso che magari da 21 e 3 fosse sceso a 18 diciamo ecco sono tre chili di meno non è proprio poca roba significa anche mettere gomme magari un po' più scorrevoli e secondo me sarebbe cambiato sarebbe cambiato qualcosa comunque se avete domande a riguardo prima di tutto vi dico iscrivetevi al nostro canale dopo di che sarà nostro piacere rispondere ai vostri quesiti qui in basso nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video oppure al nostro sito mtbcalt.it e ci vediamo alla prossima grazie a tutti